Sergio Iacona ha accettato la proposta di Giovannone che diventerà quindi il presidente onorario della Nissa. In un video pubblicato su Facebook, il massimo responsabile della società nissena, Sergio Iacona, ha accettato la proposta di Luca Giovannone. Sarà quest'ultimo a ricoprire la carica di presidente onorario del nuovo assetto societario annunciato dall'imprenditore nei giorni scorsi. E ho avuto la certezza che Caltanissetta Sportiva nei prossimi mesi si troverà a vivere un'opportunità storica, direi irripetibile, il passaggio di un treno che non può essere perso. Ed è per questo che ho deciso di accettare con entusiasmo la carica di presidente onorario che, onorandomi, Luca mi ha offerto. Anche se non ritengo di essere particolarmente meritevole della stessa. Giovannone ha ribadito la volontà di assumere la carica di presidente. Sarà affiancato da Fabio Maesteri, un altro imprenditore che attende la trasformazione della Nissa da associazione in società, e Arialdo Giammusso, in qualità di consigliere personale. L'obiettivo sarà quello di dare lustro alla città di Caltanissetta attraverso lo sport e quindi la Nissa come veicolo di crescita per tutto il territorio nisseno. Riuscire ad ottenere dei successi sportivi importanti, portare la squadra per esempio in categorie nelle quali essa non è mai stata, costituisca un biglietto da visita non indifferente. Cioè vuol dire fare veicolare un'immagine positiva, dalla quale possono poi scaturire anche successi di natura diversa. Anche lo sport può cementare una comunità, rafforzando il senso di identità, stimolando la voglia di competere e di raggiungere traguardi di tipo comunitario. Allora io invito tutta la Caltanissetta sportiva ad unirsi nella battaglia a sostegno degli ambiziosi traguardi che Luca Giovannone si prefigge e dico che nei prossimi giorni si chiude un'epoca e se ne apre un'altra.